vuoi informarti informarti orientarti nel caos contemporaneo ascolta radionomalibera.org la prima emittente di podcast cattolici in italia per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org vediamo come la ragione più particolarmente secondo la legge naturale dimostra che la sessualità appartiene solo al matrimonio procediamo dunque ad esporre brevemente la dottrina della chiesa sul matrimonio il matrimonio viene definito dal catechismo di trento come l'unione materiale dell'uomo con la donna contratta fra persone legittime la quale implica un'inseparabile comunanza di vita l'unione viene definita più precisamente vincolo dio non solo istituì il matrimonio ma lo rese vincolo questo vincolo viene espresso da adam con le parole questo è osso delle mie ossa e carne della mia carne per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola questo vincolo viene in esistenza come abbiamo già detto tra due persone legittime ossia un uomo e una donna giuridicamente liberi di sposarsi non possono essere troppo strettamente imparentati ad esempio né già sposati validamente esso si realizza mediante il loro reciproco consenso che costituisce il contratto del matrimonio osserviamo a questo punto che il termine matrimonio ha due sensi uno il consenso questo è il senso in cui si afferma hanno un matrimonio felice il vincolo e dunque il matrimonio stesso ha due proprietà l'unità e l'indissolubilità l'unità esprime la monogamia cioè il fatto che il vincolo unisce solo due persone e non di più l'indissolubilità esprime il fatto che il vincolo dura fino alla morte il signore stesso esprime l'unità quando cita le parole di adamo come pronunciate da dio così che non sono più due ma una carne sola esprime poi l'indissolubilità quando dice quello dunque che dio ha coniugato l'uomo non lo separi poiché il vincolo è indissolubile la chiesa non riconosce la possibilità del divorzio la dichiarazione di nullità invece non è l'annullamento cioè la dissoluzione del vincolo bensì un'affermazione formale da parte della chiesa che il matrimonio non è mai esistito tra i vari possibili motivi ci può essere il fatto che non si tratta di due persone legittime ossia libere di sposarsi o che non c'era il vero consenso oppure che non erano presenti testimoni la separazione fisica invece viene concessa dalla chiesa per vari motivi rimanendo salvo il vincolo la chiesa insegna che ogni matrimonio valido ha due finalità la prima finalità è quella che corrisponde alla legge naturale nei termini da noi sopra evocati ossia la procreazione e l'educazione dei figli questa finalità viene espressa con le parole dio creò l'uomo a sua immagine a sua immagine dio lo creò maschio e femmina li creò dio li benedisse e disse loro siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra poiché la procreazione è la prima finalità del matrimonio la chiesa ha sempre raccomandato ai genitori la generosità nel numero dei figli che si mettono al mondo insegnando la fiducia nella divina provvidenza per lo stesso motivo ha sempre condannato il controllo artificiale delle nascite e ristretto quello naturale la seconda finalità consiste nell'assistenza reciproca degli sposi e viene espressa con la parola non è bene che l'uomo sia solo facciamogli un essere simile a lui e che lo aiuti e perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre si unirà a sua moglie e saranno due esseri in una sola carne ora poiché la prima finalità del matrimonio è dunque la procreazione e l'educazione dei figli ne consegue che l'assistenza reciproca degli sposi mira in primo luogo ad esso e poi a tutta la loro vita matrimoniale questa seconda finalità si descrive anche come amore matrimoniale esso può essere inteso come un tipo di amicizia profondo e duraturo che tipicamente ma non essenzialmente possiede un aspetto sessuale l'aspetto sessuale viene descritto a sua volta come remedium concupiscenzie ciò significa che l'esercizio della sessualità è lecito ed onesto nel matrimonio anche se il peccato originale ha staccato essa insieme ai sensi e alle emozioni dal controllo completo della ragione e perciò la disordinata il remedium concupiscenzie viene espresso da san paolo con le parole per il pericolo dell'incontinenza ciascuno abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito la chiesa insegna dunque che dio stesso ha istituito il matrimonio inoltre insegna che il suo fine ultimo è che gli uomini possano conoscere amare e adorare dio qua giù e godere di lui per sempre in cielo questo insegnamento fa parte della dottrina cattolica secondo cui il fine ultimo dell'uomo è la beatitudine in cielo per mezzo della propria santificazione qua giù ugualmente la chiesa intende il matrimonio come il luogo per formare l'uomo alla santificazione il matrimonio si può dunque descrivere come un luogo di santificazione prima dei figli e poi degli sposi vuoi informarti informarti orientarti nel caos contemporaneo ascolta radionomalibera.org la prima emittente di podcast cattolici in italia per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org www.radionomalibera.org